Siamo di fronte ad un'opera che possiamo definire un vero e proprio capolavoro del medioevo europeo. Il Reliquiario di San Galgano è ritornato a casa, 34 anni dopo il furto dal Museo del Seminario Arcivescovile di Siena, avvenuto nel luglio 1989. Pezzo centrale della mostra dalla Spada alla Croce, il Reliquiario di San Galgano restaurato, in programma nella cripta del Duomo fino al 5 novembre. È un'opera di giustizia morale, anzitutto nei confronti della città e del suo patrimonio artistico, una ferita oggi risanata e quindi un evento di cui tutta la città ne deve gioire. Se il gioiello trecentesco è il cardine, l'esposizione mette in risalto anche tutte le altre creazioni artistiche recuperate dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo nell'aprile 2021. Calici, pissidi e anche una croce liturgica. Poi il lungo e delicato restauro del Reliquiario. Diventato quindi l'attrazione principale di una mostra ai Musei Vaticani, conclusa due settimane fa. Quest'opera getta luce, l'ho detto in conferenza qualche giorno fa, una luce radiosa su quella che è la produzione artistica sienese in questo momento. Le ragioni di questa attenzione, come sottolineato da Andrea Conti, sono legate a esse smalti che riproducono gli episodi principali della vita di Galgano Guidotti, reso immortale dal mito della spada nella roccia. Le prime due scene sono quelle del sogno del santo che raffigurano appunto il momento cruciale della sua conversione. Con il recupero del Reliquiario Siena ritrova un altro capolavoro che era stato trafugato. Pochi giorni fa l'opera del Duomo era rientrata in possesso della Madonna con il bambino. Sono opere rubate che sono state restituite ai proprietari ma soprattutto alla comunità perché queste sono bellezze che ci aiutano a fare conservazione ma anche cultura.